Ministro Franceschini, i numeri servono anche alla cultura, qual è secondo lei l'importanza dell'evento di oggi? Qui si racconta in un modo molto accattivante la storia a lunga 90 anni dell'Istat, attraverso la raccolta dei dati dell'Istat si legge l'Italia e le differenze dell'Italia nei diversi decenni, veramente come rilegge la storia del paese, vedere la crescita del paese, vedere quante cose sono cambiate. Ho visto adesso un grafico straordinario che a un certo punto le laureate donne hanno superato i laureati uomini e da quel momento è sempre rimasto così, è anche un'indicazione su come sarà positivamente il mondo del futuro. Questo evento vede la collaborazione interistituzionale Istat-Mibact, quanto conta una sinergia simile? Abbiamo una collaborazione nei nostri settori molto forte con l'Istat, su molti dati che ci riguardano e neanche è stato giusto, è un piacere ospitare questa bella mostra al Vittoriano in uno dei luoghi su cui stiamo investendo molto in termini di rilancio del luogo e della qualità delle iniziative ospitate.